Rieccoci insieme per continuare lo sviluppo della prima activity che dovrebbe servire a consentire il riconoscimento dell'utente del nostro database geografico. Il login qui infatti non deve essere inteso come l'accesso ad uno dei profili presenti sul cellulare ma semplicemente poter gestire una situazione familiare in cui diversi componenti si sfidano con quiz geografia oppure in aula alcuni alunni sono tenuti a dimostrare quanto appreso durante le lezioni. Sono però due situazioni differenti perché a casa propria potremo registrare i dati sullo stesso cellulare quindi in locale mentre pensando all'utilizzo della app da parte di un gruppo di persone che non vivono insieme quindi non stanno usando lo stesso telefonino dovremmo pensare anche ad un accesso remoto per la memorizzazione. Ma vorrei spendere adesso due parole sulla formattazione del testo. Innanzitutto bisogna sempre tenere conto che alla nostra app è applicato un certo tema che naturalmente può essere cambiato. Nel tema sono predefinite delle risorse che possiamo richiamare e attribuirle ai nostri oggetti tipo il test view che definiscono un insieme di attributi standard tipo testo normale, testo grande, testo medio, testo per i messaggi nel dialog box e cose di questo tipo. E se qualcuno ci sta pensando funzionano più o meno come il foil di stile in cui abbiamo una regola, una regola di classe che definisce il colore, la dimensione del testo, il font family eccetera eccetera. Applichiamo poi quella classe agli elementi della pagina come vogliamo e un po' funziona così qua sulla activity. Quindi abbiamo questa test view a cui attribuiamo la regola text appearance prendendola dal tema attivo in questo momento. La sintassi prevede nella scrittura invece della chiocciolina come quando si accede a un values qua nei file di risorse esterni, il punto domanda, android, i punti at eccetera e poi il nome della regola in pratica. In questo modo è molto facile aderire al tema della app richiamando queste regole che condensano diverse caratteristiche. Ma di nuovo come l'altra volta, dov'è che andiamo a pescare un elenco di tutte queste regole utilizzabili? Beh, una sorgente è sicuramente il solito developer ad android.com sotto la voce RATR. Ci troviamo anche il nostro text, text appearance small, definisce un tipo di testo con il colore, il tipo di fondo, dimensione e altre caratteristiche di stile corrispondenti al concetto di testo piccolo. E senza scomodare la reference online, possiamo sempre scegliere qui perché dovrebbero proporre alcune alternative, infatti eccole qui. Sono tutte quelle che cominciano con la stessa base text appearance small oppure small inverse, small pop up menu. Proviamo a scegliere la seconda con un doppio clic, ecco il senso dell'inverse, il negativo, comunque direi illegibile, quindi con CTRL Z ritorno a small e basta. Quindi ricordate, ogni volta che vedete un punto di domanda, vuol dire che stiamo facendo riferimento ad uno stile incluso nel tema impostato. Questa è l'apparenza quando andiamo a scegliere invece large, e direi di lasciare large. Possiamo però imporre un controllo più fine andando ad aggiungere delle singole proprietà, ad esempio colore. Volendo proseguire il parallelo con il CSS, mentre scegliendo lo stile in appearance stiamo scegliendo una regola di classe, adesso andiamo ad aggiungere una regola che potrebbe essere considerata in line, che quindi, tra virgolette, vince su quella più generale. E' il test color, e di nuovo potremmo mettere direttamente qui il colore, ma è una scelta, non dico perdente, però di qualità inferiore, rispetto a mettere la risorsa colore col suo nome, tra parentesi anche più facile poi da ricordare, da riutilizzare per tutti gli altri elementi a cui vogliamo attribuire lo stesso di colore, ma giusto per vedere come si fa, ogni colore è individuato da una costante che inizia con questo tacco al cancelletto, e poi una terna, o una quaterna, se vogliamo aggiungere la componente di trasparenza, il cosiddetto canale alfa. Il tutto è espresso in forma esadecimale, o compatta o estesa, ma qualche esempio è proprio d'obbligo. L'obiettivo è il testo rosso, quindi, componente rossa al massimo F, e poi le altre due invece a 0, verde e blu. Questa è la cosiddetta forma compatta, perché evita di ripetere la seconda cifra che è uguale alla prima, quindi F00 starebbe come forma compatta di FF, cioè valore per il rosso A255, qui dobbiamo ragionare in esadecimale, questo è 00 che rimane ancora 0, e anche l'altro 00 che rimane 0. Non cambia nulla. Ma le due cifre sono obbligatorie quando ci serve una sfumatura, quindi un rosso che tende più a un amaranto, o scelto a caso, è 9F e poi ancora 00. Se davanti ai codici che definiscono il colore aggiungiamo una quarta coppia di valori sempre compresi tra 00 e FF, quello è il valore della trasparenza. Qui vedete cosa succede con 55 e poi rosso. È un pochino trasparente. A valori più piccoli corrispondono gradazioni superiori di trasparenza, perciò con 00 entrerà tutto invisibile, cioè completamente trasparente. Mentre con FF è come non mettere proprio la trasparenza perché corrisponde al colore che segue il rosso solido. Eh sì, lo so, peccato che non ci sia un cosiddetto color picker, quindi un selettore di colore. Beh, potreste installarne uno di quelli che vanno bene, anche se non specifici per lo sviluppo Android, ma in generale per Eclipse, andate a cercare Eclipse, plugin, color, color, picker, e ne troverete sicuramente alcuni. Almeno potete scegliere in modo visuale questo benedetto colore, e poi copiare e incollare il suo codice ESA decimale. Qui ce n'è uno, ma è proprio il primo che mi è capitato a tiro, eh. Non l'ho provato. Va bene, funziona però. Il passo successivo è di esternalizzare, quindi mettere al posto di quel codice numerico un bel nome descrittivo, per poter poi sfruttare dappertutto. Andiamo ad aggiungere un file di risorse nella cartella values. Poi clicchi destro, new, un attimo che scorro, altrimenti non riuscite a vedere. New, adder. Sotto Android cercate, eccolo qui, Android.xml.values.file. Ok, file, chiamiamolo colors, finish. E' un po' come per le stringhe. Aggiungiamo colore, name, rosso acceso, value, e ci incolliamo, beh, o scriviamo naturalmente breve, f00. Ricordiamoci il nome, chiudiamo e confermiamo. Ed adesso, andando sul test color in elenco, troveremo anche il nostro color rosso acceso. E' giusto sottolineare che da adesso questa risorsa colore è disponibile in tutto il progetto. Vogliamo attribuire questa sfumatura di rosso, non so, come sfondo di un altro view? Lo possiamo fare. Un domani si decide che quella sfumatura è troppo accesa. Vogliamo renderla un pochino più morbida, un po' meno sparata come rosso. Ok, basta andare nel file XML e modificare lì una volta sola per tutti gli elementi che la usano. Comodo, però, per la singola proprietà, solo il colore, non potremmo definire i nostri stili, un po' come quelli predefiniti legati al tema, e in una botta sola definire un gruppo di proprietà? Non so, il testo di una certa dimensione, con un certo colore, in grassetto, e così via. La risposta è sì, perché potremmo aggiungere nelle risorse stili i nostri stili. Però lo vediamo la prossima volta. A risentirci.